Un bevino? Un bevino? Gigio, stai a posto? Che tu che hai? Ciao, buonasera Quando si è ricercato proprio... Mi sento la merca di te chiamare Fai un saluto alla stampa Tutto a posto? Tutto a posto, sì, tutto a posto A Capomastro, a Caldovella Signora Pugliesi, buonasera Buonasera Il forno è aperto? È aperto al pubblico Ecco che per fortuna che ad Riggio c'è una persona di serietà rinomata come il signor Franco Se no... Questi calabresi, signor Franco È sempre lì È sempre lì Signora, come si chiamano queste? Si chiamano stracciate L'ingrediente quale sono? La farina Farina, acqua, lieve provadere Questo che stai facendo adesso sarebbe? Si, si Ma signora Rizzuti, qua è... Eh... Ti fai vedere la cortesia? Si, si Quella è lì Quella è lì L'automadre? È lì L'impasto, diciamo Non è lì Sì È lì È lì L'impasto Si È lì Ma Tu Non Mi 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 la signora ha detto la farcitura mi raccomando con la salvella signora ma lei le far raffreddare prima di riempirle no non ti preoccupare no no poi dopo prima prima la chef grande siamo la direttrice la signora Aquilina la direttrice è la signora Maria Rizzuno no ma io è la supervisora oh almeno mi fai una fotografia pure a me no le prese video no foto e a me sono pure io subito no e tu le fai fotografie e poi si filmano io che faccio è come mia sia lui e così io più la tia eh mi faccio i video non le foto almeno e la consorte dov'è pure eccola qua è addetta pure alle alle polizie eh vecchie che ditta tutti lavorano tutti eh la fine parte che cosa non lavorano guarda qui ora ce n'è una marea questo è il vecchio forno famiglia pugliese yes dialetto a razza iureo iureo ora non lo mettere lì eh dove lo metto e perché non lo registrare lì col soprannome e beh si dice iureo ma non è che ha detto sì però fino a fa ma voi fate cate con le mani eh ma fate come ecco ecco come partono i rimbrogli già eh ragazzi non fate i calabresi per favore siete andati via da tanti anni ma appena venite che una volta no ma c'è un bimbo e c'è un bimbo zia marie ah dì com'è ci sei sì 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 ma io sono sempre qua eh per fortuna io sono sempre a tigra pronte pronte e disponibili ti faccio una guadrata alle il fuoco deve stare sempre a temperatura va bene ci vediamo più tardi qua c'erano pure i fresini infatti avete fatto un po' di tutto diciamo signor franco è l'opera sempre che artista della pala vedi 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 io non mi metto e mi devo imparare un paio di cose vedi che la passiamo un paio di loro insieme e mi devi dare dole io vedi che c'era io sono la professa prima la catosa a sinistra la seconda calza e lui caporosso eh ok birra e l'acqua guarda signore con birra e l'acqua alla rivendita è il nostro però non ho capito te la posso conti nessuno muro poi dopo eh davvero? una birrettina magari e una bottiglietta d'altro mamma mia rosi binti come e tirate tu cos'hai alla venti della signora tutto a posto? no rosa cosa sono quelle? le sono destrazzate ma sono col olio? come se c'è una come una missa? sì 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 ecco qui come c'è eh peperoni bellangini questa è la bella quella è quella del maiale però è un maiale con una specialità qua e queste sono le stanzate con una ma perché le c'è? mi savo fai il serio eh ecco ecco il bellezza guarda per me non due senta uno non pone qui e c'è una volta eh è un video? un video? non mi ci vinta a me non mi ci vinta e qui va tutto bene? si gettorino coppino come? sei contento di questa sera queste tradizioni molto bene benissimo è una cosa meravigliosa quindi sono contento di Pietra Paola che qualcosa di buono lo fanno è una cosa meravigliosa è una cosa meravigliosa ma non è che sia chiaro chiaro non è niente è l'uterno che ti fa vedo andiamo va andiamo a ma non c'è un'altra cosa meravigliosa non c'è un altro maio come una non c'è un po' non c'è un po' ma c'è un po' ma c'è un po' mi faccio non c'è un po' non c'è un po' ma non c'è un po' ma c'è un po' Grazie a tutti. 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 Buon... Buon... ... Buon... Buon... ... Buon... ...